I problemi della sicurezza, dell'ordine pubblico, della convivenza a Ferrara, in un ordine di priorità, a suo avviso, per la conoscenza che ne ha fatto in queste due settimane, quali sono? Attualmente il problema delle fasce deboli, degli anziani, truffe di anziani e furti che vengono perpetrati quasi quotidianamente e il mondo giovanile, ieri abbiamo avuto uno spaccato della realtà giovanile della città di Ferrara che è abbastanza preoccupante perché quando parliamo di giovani pensiamo che i giovani si rapportino con gli stupefacenti, quei pochi o tanti che si rapportano con gli stupefacenti si rapportano con droghe leggere, quindi marijuana o hashish. In questo caso abbiamo visto che i ragazzi molto giovani, i ragazzi e le ragazze, invece vanno ad acquistare cocaina che ha degli effetti sia medici, clinici sui pazienti, soprattutto in età adolescenziale, sia dal punto di vista economico e quello che ne consegue, molto gravi per dei ragazzi così giovani. La zona GAD è la zona dello spaccio, così è considerata Ferrara in linea di massima. Ecco, sullo spaccio, che tipo di azione va fatto secondo lei per eliminare anche il problema di cui lei ci ha appena parlato o comunque per ridurre questa situazione di disagio, di difficoltà all'interno di quest'area? Beh, l'area del GAD è notorio che sia una zona sensibile da questo punto di vista. È monitorata da tutte le forze di polizia, dalla Prefettura che coordina tutte le attività, ma siamo presenti sia come carabinieri che come polizia di Stato sulla zona. Vedete che quotidianamente operiamo degli arresti, dei sequesti, delle segnalazioni, delle denunce. Non sono frutto di cose improvvisate, sono frutto di un'attività pressante quotidiana di controllo e di prevenzione e di repressione. Come agire? Bisogna agire su più fronti. Uno, l'informazione per quanto riguarda soprattutto i giovani, la cultura, con le scuole, incontri con i ragazzi e le ragazze, per spiegare quali sono le conseguenze. Tra l'altro, un attacco, un'aggressione al problema nella zona, che è quello che stiamo facendo per reprimere i fenomeni di spaccio. Poi l'attività, il consumo, lo sappiamo benissimo, che è endemico della società moderna, quindi escluderlo completamente sarebbe utopico.